Salve a tutti amici, benvenuti con questo nuovo video, io sono Pimpos e oggi torniamo su Minecraft Pocket Edition L'ultima volta abbiamo fatto quella casa bellissima degli iscritti Oggi, come vi avevo anticipato un paio di video fa, faremo una specie di monumento, di un qualcosa del genere Che possa ricordarci dell'impresa che abbiamo fatto affrontando l'Ender Dragon Quindi oggi pensavo di fare questo monumento e lo vorrei fare a forma appunto di drago Ovviamente non sarà un drago perfettissimo, sarà un po' un drago stilizzato Perché altrimenti dovrebbe essere fatto troppo grande per essere abbastanza realistico Io intanto mi sono spiazzato qui una bella base di pietra E su questa base adesso ci andremo a fare il nostro bellissimo drago stilizzato Quindi vediamo, così lo faccio qua perché dalla terrazza poi si vedrà una cosa bellissima, fighissima Quindi andiamo subito a iniziare che qui il lavoro come al solito nelle mie costruzioni è abbastanza grande Quindi cominciamo a fare questa specie di T e andremo a costruirci un po' sopra E infatti mi sono portato un bel po' di terra perché sarà del tutto abbastanza alto Quindi via e qui sopra, ok, saliamo qui, vai tizio non cadere ti prego Un altro ciotolino E da qui in poi cerchiamo di salire a due a due Quindi uno qui, un altro qui, un altro qui, poi di lato così E questo lo possiamo distruggere, ok Saliamo ancora, due, tre e uno di lato Via, tizio non cadere Tizio che qua ti fai un bel po' male ti fai Tizio se cadi da qua veramente potremmo andare all'ospedale Ok, quindi ci mettiamo un altro qui e un altro qui e di lato Via, alziamo qui, un'altra di lato E stavolta, questa la distruggiamo sempre E stavolta la facciamo Andiamo di qua, stavolta andiamo di qua La pietra l'abbiamo lasciata alla tizio Tizio prendi la pietra tizio Perché ci può essere utile tizio Che stiamo costruendo con la pietra giustamente Adesso sono rimasto qui Puoi salire tizio Tizio sali tizio bravo tizio Mettiamo un altro blocchetto qui E adesso ci alziamo di due Mettiamone uno e poi ci allarghiamo Vai, vai, ok E adesso questo lo possiamo mettere qui, perfetto Adesso viene un po' la parte complicata Perché dobbiamo scendere Perché siamo saliti ovviamente adesso dobbiamo scendere Vediamo, vediamo come possiamo fare Intanto mettiamo la terra qui Vai tizio, ok Un'altra terra qui Cerchiamo di farci la strada Tizio non cade Tizio, tizio ti fai la bua tizio Non te lo vorrei dire ma te lo dico Dobbiamo cercare di Farci la strada per poter Scendere Ok mettiamo questo qui No, no, qua ci andava direttamente la pietra Tizio No, lo sapevo tizio Tizio ma sei deficiente Però vabbè, nel frattempo Dice che siamo caduti Vediamo un po' Perché recupera qua Vediamo un po' quello che Che stiamo costruendo Via Vediamolo da qua Da lontano Ok Questa sarà La prima ala Del nostro draghetto Bellissimo Quindi Ovviamente poi dovremmo Rifare la stessa storia Dall'altro lato Per fare la seconda Tizio intanto dobbiamo risalire Tizio Saliamo tizio Saliamo tizio Saliamo tizio Basta 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 così Allarghiamoci Ma è possibile Mi devo costruire i ponti per costruire Nemmeno fossi un muratore Ok dai Dobbiamo spostarci un po' di lato Tizio Un po' di lato Un po' di lato Tizio Bravo tizio Bravo tizio Bravo tizio Mettiamo la pietra qui Tizio non cadere Qua Perfetto Questa la possiamo anche distruggere Tizio Qua perdiamo tutto Vabbè Fa niente Dobbiamo praticamente scendere Con un angolo di 45 gradi Quindi tutto a scaletta Scendiamo tizio Tutto a scaletta Allora Ci mettiamo Un po' di terra qui Un po' di terra qui Un po' di terra qui No Qua direttamente la pietra Tizio Perché mi devi fare il doppio lavoro Pietra Poi questo lo togliamo Questo lo togliamo E ci mettiamo la pietra Via di pietra Perfetto Un angolo di 45 gradi Così a scaletta Tutto a scaletta Fino in fondo Ovviamente il drago Alla fine farà La guardia All'uovo Che abbiamo recuperato Nell'end Ovviamente Altrimenti Tutta sta storia qua Che sarebbe servita Niente Vai così procediamo da qua Via Dai che siamo arrivati a terra ormai Via Vai che adesso ci facciamo una dormita E vediamo il lavoro Come sta avvenendo Terra qui Pietra qui Pietra qui E basta così Direi ci può anche stare Basta così E credo anche di essere sceso un po' troppo Intanto dormiamo Vediamo A che altezza siamo arrivati Tizio piazza il letto Tizio qua a bordo acqua Ma così ti prendi un po' di salsedine E ti abbronzi pure Questa la distruggiamo Questa la distruggiamo Continuiamo da qua Perché ci sarà qui L'attaccatura dell'ala Vediamo Vediamo dove andiamo a finire Da questa parte Dunque l'attaccatura Io la farei anche La facciamo qui Così magari Sotto Così La facciamo a due a due Stavolta va Così Così Questo lo togliamo Facciamo due blocchi sotto E due blocchi sopra Vediamo dove andiamo a finire Via tizio Via tizio Via di qua tizio No hai sbagliato tizio Tizio da questa parte Quello distruggilo Si sta rompendo pure la picosa Beh bellissimo Bellissimo Tutto mi si spacca in questo gioco Tutto Presente sono giusto Solo che qui il piano è più rialzato Perché c'è questo spiazzo di terra Più rialzata Fa niente Nessun problema Via Togliamo queste Queste lato E siamo arrivati Perfetto Quindi le misure Erano effettivamente giuste Volendo sono giuste E questo è il risultato Ovviamente qua si vede Tutta sto spiazzale di terra Qua però ci può servire Quindi non la togliamo Casomai togliamo un po' di questa Togliamo questa Perché adesso dobbiamo fare Le linee centrali Perché un alo ovviamente È composta da varie sezioni Quindi Questo lo lasciamo Saliamo qui sopra Tizio pianta Pianta la terra Tizio che qua ci serve salire Saliamo Basta così Per adesso basta così Dobbiamo fare Queste strisce Che verranno collegate Con quella punta Lì in alto Quindi direi di iniziare Vediamo Anche da qua Così E portiamolo Lì sopra Anche da qui Volendo Perché sono qui sotto Alziamoci Via Tizio Alziamoci tizio Via Ok un altro pochino Via Dobbiamo riunire Praticamente queste cose Lì sopra Quindi Alziamo di qui Alziamo di qui E siamo arrivati Con quello Questo lo possiamo anche chiudere E alziamo anche con questo Via di qua E via di qua Perfetto Direi che l'abbiamo anche chiusa Adesso dobbiamo riempire Questi spazi vuoti Con Con le assi di legno Che io ho lasciato lì sotto Fantastico Veramente tizio Sei bravissimo Veramente tizio Ma baff Tizio Tizio Ma perché ti scordi le cose a casa Tizio Ma perché ti scordi sempre le cose a casa Vediamo un po' la situazione da lontano Direi Direi che ci siamo Perfetto Adesso questi spazi qua Vanno riempiti appunto con le assi In modo da creare un colore uniforme Quindi andiamo a prendere le assi Mettiamo questa qui Cominciamo a riempire tutto di assi Ci arrivi qua tizio Dai Allungati un poco tizio Perché Perché tizio Perché non ti allunghi Dai Dai Da qua ci deve arrivare per forza Dai Non facciamo gli Gli stupidotti Via Riempiamo tutto Riempiamo tutto Riempiamo qui Riempiamo qui Riempiamo qui Riempiamo qui Dai che ce la facciamo Dai che abbiamo riempito Forza Forza che abbiamo riempito Forza Ce la fai da qua Bravo Bravissima La sopra non ce la fai più La sopra non ce la fai Andiamo andiamo Riempiamo l'ala Riempiamo l'ala Via E adesso E adesso lì tizio Ci arrivi da qua Bravo tizio Bravissimo Perfetto Direi che la nostra ala Direi che è bella che è fatta Vediamo un po' come si vede dal basso Prima andiamo a dormire perché non si vede niente E poi vediamo come è venuta la nostra bellissima ala Vai tizio Vediamo 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 Bellissima Guardate che ala micidiale Ovviamente togliendo qua lo spiazzo di terra qui sotto Si vedrà ancora meglio perché risulterà rialzata Per adesso è un po' incollata al terreno Quindi non rende benissimo Perfetto Adesso dobbiamo fare la stessa cosa La stessa identica ala anche dall'altro lato ragazzi Quindi vi risparmio di vedere un'altra volta La costruzione dell'ala E ci vediamo dopo che l'ho costruita Perfetto ragazzi Allora l'altra ala è bella che è completa Guardate che fighissima Sembrano proprio le ali del drago Adesso andiamo un po' al centro Perché dobbiamo fare sia la testa sia la coda Ovviamente un drago senza testa senza coda Che drago è Cerchiamo subito di vedere come fare Dunque allarghiamoci di qua Poi saliamo Vediamo un po' come fare Ci spostiamo di qua Questo magari lo posso anche togliere Togliamo questo Scendiamo Vediamo un po' come fare questa situazione Perché non lo so nemmeno io Non lo so nemmeno io Così possiamo anche No niente Mettiamone uno qua Scendiamo Uno lo mettiamo qua Allora quello lo togliamo Togliamo questo Allunghiamolo un po' Mettiamo questo qua Questo lo togliamo Così Una pietra qui Così Metti la pietra tizio Perfetto Intanto andiamoci a recuperare il materiale Via via Buttiamoci dalla testa Perfetto E un'altra pietra qui Vediamo Magari qua ci mettiamo un altro blocchetto Ma si dai Volendo Volendo ricordo un po' il drago Vediamo Dormiamo C'è l'ho più in letto No perché l'ho rotto Meglio così Andiamo a dormire L'importante è che la struttura Sembri proprio un drago Non deve essere proprio una testa di drago Deve essere stilizzato Come avevo detto In anticipo Perché ovviamente Fare una testa di drago In pixel art Richiederebbe veramente Tantissimo materiale E deve essere più grande Altrimenti non rende Quindi andiamo a fare il corpo Vediamo come fare il corpo Direi di farlo Utilizzando la stessa tecnica Quindi vediamo Saliamo 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 Facciamo così Facciamo così Questo lo possiamo anche togliere Via Un blocchetto qui Un blocchetto qui Facciamo qui E direi di completarlo anche così Forza Via Questo lo togliamo Via Togliamo Questa è la coda del mio dragone Mettiamoci qua Guardiamolo di qua Vediamo che succede di qua Oh forza Forza Avanti Da lontano Molto da lontano Sempre un draghetto Forza Adesso mettiamo L'altare Con L'uovo Ovviamente ancora l'uovo Non l'abbiamo utilizzato Quindi questa terra Io la toglierei tutta E adesso ci facciamo L'altare Con il quarzo Come altare Io direi di fare Praticamente La stessa struttura Che c'era nel land Dove si era creato Praticamente l'uovo Quindi la stessa struttura Vediamo un po' Di farla di terra Per adesso Così ci facciamo un'idea Di come deve essere E poi la facciamo Con il quarzo Terra Terra Qua al centro Togliamola Questa qui Questa qui Questa qui E questa qui Questa qui Questa qui Perfetto Direi che adesso Ci può anche stare Togliamo Togliamo questa Togliamo questa E qui al centro Ci andrà il pilastro Con l'uovo Perfetto Ci può anche stare Quindi andiamo a sostituire La terra con il quarzo Perfetto Qua dentro invece Ci mettiamo Il tappeto rosso Così da Essere ancora più bello Guardate che figo Guardate che figo Il mio altare Con l'uovo E ovviamente L'uovo Che io Ho preso Credo Giusto che l'abbiamo preso L'uovo Sì Credo di sì Ok Qua dovevo farmi Un altro viaggio Via di uovo Bellissimo Fantastico ragazzi È venuto qualcosa Di fantastico Perfetto Le torcette le ho Quattro torcette Ce le mettiamo Va Ok Una qui Una qui Così illuminiamo Un bel po' l'uovo Una qui E una qui E quasi quasi Metterei due torcette Una qui E una qui Come se fossero gli occhi Del drago Ragazzi Fighissimo Una qui E una qui Guardate Guardate Come se fossero gli occhi Del drago Guardate che figo Ma quasi quasi Ci metteremo una scaletta Però lì Così tipo Vai e viene a discere Vediamo se c'è una scaletta Va Niente Non ce l'ho Ma la facciamo subito Quindi Quattro scalette Forza Otto scalette Vì Meglio abbondare Che mancare Andiamo 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 a mettere scalette Così forse viene un po' Più testa di drago Con la scaletta Messa nel muso Vì andiamo Guardate che figo Ma è una cosa spettacolare Non perché l'ho fatto Io ma Mi piace Quindi mettiamo subito La scaletta qui Adesso è un problema Centrare qua la situazione Però non la torcia Tizio Non la torcia Tizio Ora questa sicuramente Me la mette sbagliata Mettiamo Mettiamo la scaletta Via di scaletta Vediamo Ma volendo ci può anche stare Volendo ci può E caso me mettiamo la scaletta qua Aspetta aspetta Vediamo 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 Vai E sperimentiamo un po' di cose Questa la togliamo E mettiamo la scaletta Messa qua così Vediamo Secondo me è perfetta Ragazzi Secondo me è bellissimo E andiamo a vedere il tutto Dalla terrazzina mia Bellissima Andiamo 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 In terrazza Ragazzi Forza che sta arrivando l'estate E cominciamo a riutilizzare La mia bellissima piscina Guardate Guardate che figo Il mio drago Guardatelo Ma è troppo spettacolare Ragazzi Cioè non perché l'ho fatto io Ma Cioè a me piace un botto Cioè è venuto bellissimo Da qua proprio il panorama È fighissimo Quindi ragazzi Se anche a voi è piaciuto questo video Ovviamente lasciate un bel like Vi ricordo che potete seguirmi anche Sulla pagina Facebook Twitter Isti come tutte le reti social Tutti le reti in descrizione Iscrivetevi al canale E per oggi è tutto Al prossimo video Oggi torniamo su GTA San Andreas Oggi continueremo con le missioni Di Big Smoke CJ metti a riparo Spara come passi Oh ma qua c'avete Rocchi Via CJ Spara tutto CJ Spara tutto CJ